La prima testa che è caduta è stata quella dell'assessore alla pubblica istruzione Sonia De Toma, sfiduciata e licenziata da Giacomo D'Apollonio, ma il clima al comune di Sernia è di guerra aperta e da regolamento dei conti all'interno della maggioranza. L'approvazione del bilancio, grazie ai voti di due consigliere d'opposizione, ha scatenato una serie di conseguenze che hanno davvero reso irrespirabile l'aria Palazzo San Francesco. C'è da dire che D'Apollonio aveva intuito la possibilità di bocciatura del bilancio con il conseguente commissariamento del comune ed ha fatto le sue mosse, convincendo due rappresentanti della minoranza a cambiare schieramento, così da far passare il documento di programmazione finanziaria. Ma il sindaco, fiutato il trappolone, non si è limitato a convincere le due consigliere, infatti si è lasciato andare nei confronti della minoranza parlando di persone che vanno al comune a fare solo i propri interessi e non quelli della comunità. Parole pesanti che non sono passate inosservate, tanto che Rita Formichelli invita esplicitamente D'Apollonio a denunciare questi personaggi e i loro appetiti. È stato molto inquietante ciò che ha detto il sindaco nelle battute finali, laddove ha detto che lui, cosa che io stessa non ho mai messo in dubbio, tant'è che mi sono appellata al suo senso morale per far fronte a questa emergenza che abbiamo, e ha detto appunto che lui è una persona onesta e di moralità ineccepibile, ma che in consiglio comunale ci sono consiglieri che sono in conflitto di interessi e perseguono soltanto i propri fini e stanno lì solo per questo. Credo che questa affermazione sia gravissima e se il sindaco veramente sa qualcosa di questo tipo, lo invito e lo esorto a fare ciò che lui sa meglio di me e quindi oltre scelte politiche andare nelle sedi competenti, soprattutto è inquietante perché allora mi chiedo questo bilancio perché è stato approvato e da chi e con quale fine.